Ciao, allora sono molto felice di essere qua, altro qua a Scorpet, e provo tante 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 emozioni in questo momento, sono felice, ansiosa, nervosa, però allo stesso tempo vivo molto fiera e onorata di essere qua a rappresentare Malta all'Eurovision. Allora sul palco vedrete una performance molto positiva, con tanta energia, con un performance che mi rappresenta al 100%, che poi coinvolge anche il pubblico con un messaggio molto importante. Io credo molto nella manifestazione, quindi io vi consiglio di alzarvi la mattina, guardarvi nello specchio e dire a te stessa o a se stessi che siamo perfetti così, che le nostre differenze ci rendono unici e che siamo perfetti come siamo. Ciao Sorrisi, vi mando un abbraccio forte, ciao!